Qua, quando avete sentito l'odore? Eravamo tutti perciò a casa mia. Verso che ora è? A chiedersi che cosa succederà? Era l'una e mezza. Una e mezza? Ma sentivate tanto odore? Abbiamo sentito prima il rumore dello sconchio del tubo e poi subito quando si è visto il fumo del gas proprio salire fino al fallo della luce si è sentito subito l'odore e dentro casa c'era un forte odore e sono le 15.29 forse per fortuna possiamo rientrare in casa. Ah boh, perché comunque hanno chiuso il tubo principale. Sì, hanno appena chiuso ore. Questo è il gas metano, no? Sì, hanno spento anche l'elettricità. E anche l'elettricità per problemi ovviamente di innesco. Ma avete sentito qualche rumore particolare o di provviso così? Stavano facendo dei lavori. Ah, stavano facendo dei lavori. Stavano facendo dei lavori, stavano tagliando il marciapiede e inadvertitamente il tubo si è stagliato il tubo. Ho capito? Bene, insomma. Tu vai qua? No, 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 no.